ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi al velocemente perché appena arrivata my beauty box in collaborazione con Rimmel del film madame web quindi è un nuovo film al cinema dal 14 febbraio questa è la box di my beauty box di febbraio e dovrebbe essere in collaborazione tra Rimmel che ha fatto una capsule collection per il film ma noi andiamo a vederla perché come abbiamo visto è tutta chiusa ancora vi ricordo intanto che il prezzo della box varia dai 19 euro per la singola box fino a quello annuale credo che siano sui 16 euro comunque 10 per cento di sconto come sempre nelle link che trovate nell'info box e noi continuiamo ad aprirla troviamo allenati a casa in palestra e raggiungi la tua forma ideale con go girl di stefania sugar free ok sconsoni con cqr per un mese di fitness a un euro va bene ok andiamo a vedere questo che è lo spoiler col flyer col tutto ma noi lo mettiamo qui perché andiamo a vedere la box a ok e tutta è tutta è tutta tema delle film che non ho visto ma lo scopriremo bene il caso che qualcuno sia appassionato delle capsule collection questo ed è interessante ma noi andiamo a vedere che cosa contiene ok allora io partirei con questo che immagino che sia un più madame web il film della marvel ed è uno specchietto piccolino da borsetta molto molto compatto molto carino la cosa che vedo è che sono tutti full size quindi ok andiamo avanti con questi perché va bene tutto ma io mi chiedo se nel 2024 c'è ancora qualcuno che usa lo smalto classico ok se qualcuno lo usa ci può stare step 1 e step 2 ed è uno smalto questo è il colore è il colore sulle session session potrebbe essere comunque questo questo è lo step 1 e questo è lo step 2 che diventa un super gel top coat senza lampada quindi per farlo durare di più e ci sta ok allora scusatemi come sempre valore degli smalti 2 euro l'uno quindi 2 4 euro abbiamo visto lo specchietto andiamo avanti con questi quattro prodotti quale quale cintare se prima vediamo un po allora da qua alla partiamo con questo questo è l'eyliner è un full size lunga tenuta waterproof un ml questo con applicatore in filtro ok ed il valore di questo è di 6 euro e mi ha macchiato sempre per gli occhi troviamo questa che la kinder free clean aid e fine è una matita colore 01 pitch dura tutta la giornata 1,1 grammi è nera è abbastanza dura quindi dovrebbe durare ok e valore 5 euro mascara io amo i mascara questo l'ho già provato il trilleseeker wonder volume è un full size da 8 ml ve lo faccio vedere l'applicatore mi è piaciuto devo dire quindi felice di ritrovarlo valore di questo 18 euro quindi se la box viene dai 16 a 19 euro con solo il mascara è stata pagata la box stavo guardando che non mi ricordo se è così in origine o se richiama il film ma secondo me con questo disegnino qua potrebbe essere una capsule per il film quindi ancora meglio ed eccola qua oh my gloss madame web exclusive in cinema esclusivamente al cinema questo è il gloss edizione proprio del film 800 crystal clear è quello trasparente trasparentissimo ma molto bello è un gloss classico che va bene anche solo per rinnovare il colore di un rossetto questo ha un valore di 6 euro quindi ricapitoliamo tutto tutto dedicato al film troviamo lo specchietto i due smalti di cui uno è il colore che comunque è della collezione e uno è il gel super gel da applicare sopra come top coat poi dedicata alla collezione abbiamo l'eyeliner e la matita poi il mascara ed il gloss ed tutto questo ha un valore di circa 39 euro non è un valore così alto e sinceramente di questi prodotti quello che soltanto avrei trovato è il mascara perché mi era piaciuto ed è quindi un mascara valido da riprovare però per tutto il resto sì sì ok va bene però ne facevo anche a meno ecco non ne sarei andata a cercare però è carina l'idea se uno è appassionato delle collezioni di make up dedicate ai film o al cinema o a qualunque altra cosa che esca fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate avrei preferito va benissimo perché è una collaborazione con Rimmel Rimmel ha fatto uscire questa collezione di make up ed è My Beauty Box ha deciso di riproporla è un'idea carina molto carina spero che siano poche ed è durante l'anno ma lo scopriremo solo apprendola mese per mese fatemi sapere che cosa ne pensate io come sempre spero che sia stata utile ed vi do appuntamento al prossimo video ciao